Buonasera, sono Giulia Amato, ho vent'anni, sono una maestra di sci e sono una studentessa di scienze biologiche. La mia passione è quindi lo sci e mi piace tanto ballare. Partecipo a Missal Benga, non so perché, per fare un'esperienza nuova e per divertirmi. Mojito o Cuba Libre? Mojito. Mi dovete votare perché sono ragazza spontanea, simpatica e non lo so perché mi piaceva viaggiare e quindi voglio vincere il viaggio.